Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Siamo oggi qui per andare a giocare, come detto appunto nello scorso episodio Un fantastico... Un'altra fantastica partita in rissa a squadre Mentre la partita comincia Ne andiamo a dare un'occhiata al nostro pass battaglia Per vedere se possiamo acquistare qualcosa di nuovo Sì, dei nuovi V-Buck che sicuramente io prendo molto volentieri Che però non mi prende, ok? Grazie Poi andrei a prendere un po' di queste cose che costano poco qua, no? Qui cosa mi manca? Questo Molto bello E questo, così poi alla prossima volta che abbiamo un po' di stestelline Ci compriamo anche la skin Non mi dispiacerebbe arrivare al 100% di questo pass battaglia Tanto dura... Fino a quanto dura? Fino al 10 marzo, mi... Abbiamo ancora due mesi La partita dovrebbe intanto cominciare Qui non capisco perché ci metta così tanto Eh, già è passato un minuto Il tempo che mi diceva era di 43 secondi Eh, ma si sta facendo preparazione Siamo pronti a fare una fantastica partita di questa squadra? Sì, speriamo di vincere, dai Un po' come quella dello scorso video, no? Che se non sbaglio abbiamo vinto, giusto? Mi sembra di sì Sì, spero di sì Più che altro Perfetto Siamo qua pronti, pronti Io ballo Noi andiamo nel posto esattamente dove siamo andati ieri Mi chiederete perché? Beh, perché lì non ci va nessuno E io voglio in risa squadre Un posto dove sono solo io E nessuno della mia squadra Così mi piglio tutte le armi E le cose che ci sono in quel posto Perché altrimenti gli altri vengono Mi rompono tutto Rubano E va a fare un culo Sinceramente Cioè Oh, almeno in risa squadre Voglio avere tutto per me Eh Qua c'è un'altra cassa Sì Fammela aprire Cosa c'è dentro Un pompa migliore di quello che ho io Sì Cioè che in realtà quello lì è un buon pompa Perché è un pompa con cui puoi sparare anche un po' da lontano, no? Ma personalmente a me Fa schifo Perché non riesco ad usarlo bene Quindi Preferisco di gran lunga questo Già Ma qua di nuovo lo stesso Qua Munizioni Munizioni, grazie Mi sono specchiato lì in bagno Mi sono cagato A prendere la macchina non avrebbe senso Quindi Facciamo perdere Munizioni Queste fanno sempre molto comodo Uh, l'arco Sì L'arco in risa squadre serve Tantissimo È tipo indispensabile In risa squadre l'arco E quest'arma mi piace Siamo morti 3, 2, 1, 0 No, abbiamo perso pure la chiave lì No Cos'era quella chiave? Gli ottimizzatori Ah, me ne manca uno Gli ho trovati tutti tranne uno Qua il vento tira Guarda qui Gli ho trovati aspetta ma io c'ho questo no va bene non funziona molto bene c'era qualcuno via nuota cavolo bene di qua di qua andiamo andiamo e gli ultimi colpetti li diamo così voilà c'è un fantastico non mi dico come si chiama trampolino non si chiama così per niente però va bene ora la cassa qua sotto c'è sì oddio scusate per il momento la partita non è praticamente ancora iniziata perché siamo 0 a 4 per i nemici quindi direi una merda oh salve complimenti allora andiamo su di qua salve guardate laggiù chi c'è c'è qualcuno che ha il martello ma vaffanculo ma dai io sparato porco dio non ci credo avete visto no io stavo sparando e così a caso un altro idiota mi ha colpito proprio un gioco fatto male ma vabbè ci gioco tanto perché così almeno non gioco in più per fare video oh certo 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 eh dove cazzo è la sensibilità di sto gioco di merda scusate scusa perché sei messa su veloce devi essere messa su veloce più non lo capisci oh allora siamo allora questa partita è chiaramente vinta dagli altri qua l'affanculo qua l'affanculo ahia fate furbi ma vaffanculo dai porca puttana sembra possibile di trovare gente del genere contro guarda l'affanculo guarda l'affanculo un po' mi hanno ucciso eh ecco ovviamente puoi morire grazie grazie spegni la radio di merda qua l'affanculo un po' di assist ma c'è certo è tutti su di me mi sembra giusto ovviamente dai ma che che partita di merda cioè già non ho mai fatto una lista squadra così vergognosa l'affanculo 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 ma porca miglia ah e allora ok e certamente perché va storto no? mi sembra giusto mi sembra giusto perché non si sbrigano a vincere tanto mi sembra chiaro che vinceranno loro usa un po' questo martello di merda ma dimmi te ma perché va storto? perché sto martello di merda? gira male ma dimmi te bene accorgete no? che il gioco è fatto male cioè guarda mi spara sotto i piedi e mi colpisce ma non è vero ma dai ma che cazzo dici? fatemi mettere su un cazzo di albero hanno vinto hanno vinto ho schivato quel colpo che culo va bene posso dirvi che è stato un video abbastanza indiscutibile perché il gioco ci ha messo contro gente che a quanto paggio mi ha messo in squadra i coglioni perché non hanno fatto una kill e nell'altra squadra hanno messo gente invece tutta forte mi sembra giusto bene per questo episodio è tutto io vi auguro una buona giornata non mi resta che dirvi ciao ragazzi